Il Partito Democratico Aretino discute di guerra in Ucraina e di PNRR. C'è stata ieri l'assemblea del coordinamento territoriale all'Arezzo Park Hotel di Battifolle. È intervenuta la deputata Paola De Micheli, responsabile nazionale del Partito Democratico per l'attuazione del PNRR. È una situazione drammatica quella che si è creata in Ucraina a causa di un atto di invasione unilaterale da parte della Russia, da parte di Putin. Noi stiamo vivendo da una parte un grande afflato di solidarietà del nostro paese, delle italiane e degli italiani, per l'accoglienza di persone che sono europee, che hanno la nostra storia, la nostra cultura e che in molti casi ci aiutano nelle nostre famiglie. Dall'altra parte le sanzioni hanno determinato un peggioramento nell'aumento dei prezzi dell'energia. Un aumento che era già cominciato in autunno in realtà, tant'è vero che i primi interventi del governo sulle bollette sono legate all'ultimo trimestre del 2021 e che ovviamente in questo momento sta pesando su tutte le filiere produttive, non soltanto su quelle direttamente energetiche o energivore, ma per esempio anche potentemente sull'agroalimentare. L'aumento dei prezzi ha un effetto anche sul piano nazionale di ripresa e resilienza, che è il motivo per cui oggi sono venuta qui, essendo responsabile dell'attuazione del Partito Democratico. Voglio ascoltare brave amministratrici e bravi amministratori per ascoltare i loro problemi nell'attuazione del piano. Ci sono 66 miliardi per gli enti locali che possono essere messi a terra sotto vari profili, per le scuole, per la sanità, per tutte quelle che sono le attività sociali previste dai comuni e per lo sport, per cui è uscito un bando anche recentemente. Ora, è del tutto evidente che il PNRR è un grande piano nazionale. L'invito che farò oggi agli amministratori e anche ai rappresentanti delle associazioni di categorie e delle imprese, perché per le imprese il 18% dei 191 miliardi è destinato a bandi per loro, ecco, sarà un invito ad immaginare il futuro con queste risorse. Le risorse del PNRR non vanno gestite burocraticamente per tirare fuori dei vecchi progetti nel cassetto, ma bisogna provare ad immaginare territori, città, aree urbane, aree interne, aree collinari per il futuro del prossimo decennio. È una grande opportunità se la vivremo con uno slancio innovatore e innovativo. Se lo approcceremo, il PNRR e l'utilizzo delle risorse che l'Europa ci ha dato con un atteggiamento di conservazione, noi corriamo il rischio di replicare anche qualche errore che è stato commesso nel passato. Questo sarà l'invito che farò oggi.